Rintracciata a Venezia una donna di 68 anni, affetta da frequenti vuoti di memoria, scomparsa da casa ieri sera. Gli agenti della sala operativa della questura di Prato l'hanno ritrovata grazie ai numerosi tentativi di mettersi in contatto con lei attraverso il numero di telefono fornito dal marito, che ha denunciato subito la scomparsa in serata, manifestando grande preoccupazione per lo stato di salute della donna, che al momento dell'allontanamento era in possesso di un biglietto del treno per Firenze. Ad una di queste telefonate la 68 anni ha finalmente risposto e ha detto di trovarsi a Venezia, senza però riuscire a dare indicazioni ulteriori a causa del suo stato confusionale. Una voce di sottofondo però in quello stesso momento ha pronunciato le parole Ponte di Rialto, evidentemente le parole di un passante che era vicino alla donna e che sono state sentite distintamente dal poliziotto che ha subito attivato i colleghi della questura di Venezia. Le ricerche sono scattate immediatamente e la donna è stata effettivamente individuata nei pressi di Ponte di Rialto. Il marito è stato avvertito del ritrovamento ed è partito in treno alla volta di Venezia.